La trasferta di Monopoli per il Teramo servirà per cancellare quella che è stata una serata, quella del Bonolis, positiva dal punto di vista del gioco, negativa dal punto di vista del risultato. E però in Puglia il diavolo incontrerà una formazione che viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Ha battuto il Catania e ha pareggiato con il Bari di Vincenzo Vivarini. Peraltro in casa Teramo ci sono delle tegole. La più grande, l'infortunio di Francesco Bombaggi, che ha subito proprio mercoledì sera un colpo all'anca e allo stato attuale, non dovrebbe essere disponibile per la gara del Veneziano. Insieme a lui, in forse anche Cianci, problema al ginocchio, e Cristini in difesa. Questa mattina conferenza stampa del tecnico bianco-rosso Bruno Tedino, che ha parlato così. Della trasferta in Puglia e delle condizioni dei giocatori. Abbiamo qualche problema fisico, abbiamo qualche problema fisico, piuttosto importante. Sarebbe? Beh, a parte i soliti noti tipo Minelli, abbiamo Bombaggi, che probabilmente non ci sarà. Abbiamo Cianci, che ha preso una grande cannonata al ginocchio, abbiamo Cristini, che è piuttosto stanco. Ad oggi è alto. Domani, a meno che non passi uno sciamano di quelli che, con la sola imposizione delle mani, possono un desiderare. Cioè, se stava bene, Bombaggi, in questo momento Francesco è insostituibile. Ma in tutte le zone del campo c'è niente a fare. Fa la punta, il terzino, il tornante, il mediano, la bezala. Allora, è una perdita per noi molto importante. Però anche questo serve per valutare altri giocatori e soprattutto per dare convinzione a un gruppo che solo insieme, compatto e unito, dà dei risultati. Un dito, se ti picchia, non ti fa male. Un pugno, invece, con cinque dita, vedrai che qualche cazzottone in più. Se ti colpisce, fa male. Abbiamo tre possibilità. Ilar in tre quarti, con Lasik e Santoro ancora in mezzo al campo. E con Mungo, magari, spostato in un altro ruolo. Oppure abbiamo doppia punta con Mungo tre quarti, Santoro-Lasik. Oppure abbiamo la possibilità di fare Mungo e Lasik o Santoro. Perché bisogna vedere come stanno tutte e due. E Mungo in tre quarti o Ilar in tre quarti. Mungo mezzala, Santoro-Lasik e mezzala. Ilar in tre quarti, doppia punta.